Il Consiglio regionale dà il via a maggioranza al bilancio di esercizio 2019 e al bilancio di previsione 2021 dell'Agenzia regionale per l'impiego. Per quanto riguarda i numeri del bilancio di previsione, il valore della produzione ammonta circa 60.249.000 euro, dei quali 4.500.000 sono contributi da parte della regione toscana per le spese di funzionamento, mentre la gran parte delle risorse proviene dal governo nazionale o da finanziamenti europei. Il conto 2019 invece si è chiuso con un valore della produzione di oltre 29 milioni di euro ed un utile di quasi 1.965.000 euro. Arti si conferma una rete di centri per l'impiego che ha dimostrato negli anni di saper soddisfare l'incrocio della domanda e offerta con una risposta di soddisfazione che va circa sul 98%, raccogliendo le richieste di circa 18.200 imprese, un volume di circa 60 milioni. Abbiamo fatto una grande riflessione su Arti perché la rete dei centri dell'impiego, che conta 500 dipendenti più altri 250 che fanno capo alla rete degli Ampal e quindi i navigator utilizzati anche in questo periodo per l'inserimento lavorativo, è una grande rete che dovrà nei prossimi mesi, e questo l'abbiamo detto anche in occasione del bilancio di previsione, fare i conti con una situazione lavorativa ed economica della nostra regione che sta profondamente cambiando purtroppo. E quindi ci sarà la necessità sia di formare, sia di cercare di ricollocare figure che sicuramente ne avranno bisogno. Certo, lo slittamento per alcuni lavoratori al 31 dicembre del blocco dei licenziamenti ci aiuta e ci dà il tempo anche di capire e di fotografare in tempo reale come funziona l'andamento delle politiche del lavoro. Quindi un grande ringraziamento alla direttrice e a tutti gli impiegati che durante anche questo periodo si sono impegnati a lavorare e ad ascoltare le persone anche con modalità da remoto, con modalità online, non sempre i colloqui di persona erano possibili e questo sicuramente ha costretto a trovare nuove metodologie anche se difficili. Però per adesso abbiamo retto, non sono diminuiti i colloqui e quindi dovremmo di nuovo nei prossimi mesi cercare di migliorarci per arrivare a tutti coloro che hanno difficoltà e che perdono il lavoro. Arti sarà fondamentale in quella fase che la Toscana attraverserà dopo che sarà tolto il blocco dei licenziamenti. Nelle audizioni, nelle confronti che abbiamo avuto in commissione e ho sentito la dirigente che di questo è consapevole, sarà importante quindi mandare molte risorse per quanto riguarda il front office perché ci ritroveremo davanti a un gran numero di domande di disoccupazione e sarà importante cercare il ricollocamento. Quindi diventa importante ricevere questa quantità di persone, provvedere anche a quello che è il reddito di cittadinanza e tutte le pratiche e attivarsi bene e lo stanno già facendo per una modalità di contatto che sia sia telematica che dal vivo. Sarà fondamentale quella dal vivo perché il supporto che si dovrà dare a queste persone sarà anche di vicinanza emotiva e in questo devo dire che i professionisti del settore sono stati molto bravi in questi anni e noi dobbiamo dargli però una mano economicamente e organizzativamente. Lo statuto della Fondazione per la Formazione Politica Istituzionale Alessia Ballini è stato approvato dal Consiglio regionale a larghissima maggioranza. La scuola, ricordiamo, è rivolta a consiglieri regionali, comunali, assessori e sindaci per qualificare sempre più il loro impegno e nelle istituzioni e la loro capacità di analisi e gestione dei problemi. Come socio fondatore e promotore il Consiglio regionale partecipa con 50 mila euro al fondo di garanzia mentre UPE e ANCI con 5 mila euro ciascuno. Si aggiunge un contributo alle spese di funzionamento nel limite di 100 mila euro a anno e per il BN 2021 e 2022. Oggi è una bella giornata, abbiamo dato seguito alla legge che era stata approvata nella scorsa legislatura. Abbiamo votato una delibera che istituisce l'atto costitutivo con cui andremo a fondare una scuola di formazione politica. Il nostro obiettivo dall'inizio di questa legislatura è quello di dare risposte ai ragazzi più giovani. Vogliamo dare con questa scuola gli strumenti ai giovani amministratori ANTER 40 per svolgere meglio il loro compito, quello di dare risposte ai cittadini e alle cittadine della Toscana. Lo faremo insieme a ANCI, insieme a DUPI. Cercheremo di mettere in piedi una scuola di formazione che oltre a fornire gli strumenti definisca anche le principali azioni valoriali che la nostra regione vuole portare avanti. Sarà pronta dall'estate di quest'anno. Noi speriamo di fare i primi corsi subito dopo l'estate in maniera tale da poter coinvolgere già i primi studenti nel 2021. Ora, non appena sarà approvato, sarà sottoscritto lo statuto e l'atto costitutivo, torneremo in Consiglio regionale per eleggere il CDA della fondazione che, sottolineo, svolgerà questo incarico senza alcun compenso. Oggi si sta scrivendo anche e soprattutto per merito di un ufficio di presidenza che sta lavorando in coesione anche con il centro-destra, con i consiglieri del centro-destra che stanno dando un importante contributo. Ecco, si è scritta una pagina diversa. La scuola era istituita. Ora si trattava comunque di far sì che vi potesse essere un buon funzionamento, perché quando le cose esistono di fatto occorre cercare insieme di dare un buon funzionamento. quello che chiedono i toscani, che le cose oggettivamente funzionino. Buon senso, pragmatismo. Noi abbiamo dato veramente dei contributi importanti sotto questo punto di vista. Il direttore risulterà tra le persone che fanno già parte delle strutture dei soci fondatori di regione ANCI, UPI, e quindi non ci sarà un costo, un aggravio di costi ulteriori. Questo è un dato importante in un periodo come il nostro. Inoltre, si cercherà di fare una buona sinergia e collaborazione con la scuola di ANCI, perché questa riguarda appunto tutta la Toscana e tutti gli eletti. Quindi anche la collaborazione con ANCI, con la collaborazione con UPI. Inoltre, posso dire che vi è proprio quella politica volta al contenimento dei costi, che a noi piace. Quindi una scuola di formazione che avrà sede in questo palazzo, presso il palazzo del Pegaso. E siamo soddisfatti per aver dato il nostro contributo. L'abbiamo fatto con responsabilità, con serietà, con maturità. Cerchiamo di far funzionare le cose bene in Toscana. Cerchiamo di pensarci bene quando si istituiscono. Ma una volta istituite, come è il caso della scuola di formazione, facciamola funzionare almeno bene. È un'occasione per buttare via i soldi. Lo abbiamo detto in maniera molto chiara. Siamo l'unica forza politica, Forza Italia è l'unica forza politica, che ha votato no allo spreco di 300 mila euro in tre anni per formare chi? Chi dovrebbe essere già formato? Perché allora dovete chiedere a chi mandate nei consigli comunali, nei consigli di quartiere, nei consigli regioni in Parlamento, la sai fare politica? La sai riconoscere una differenza fra una mozione e un'interrogazione? Se vi risponde di sì, votatelo. Se vi risponde di no, non lo dovete votare, perché è inaccettabile che dalle tasche di un dipendente, dalle tasche di un pensionato, vengano prelevati dei soldi e quei soldi servono per formare chi? I politici. Questo è il modo peggiore di fare politica. Forza Italia in maniera fiera è l'unica forza politica che ha votato in consiglio regionale contro questo spreco di danaro pubblico, perché la formazione appartiene ai partiti e perché la formazione la si fa ascoltando i cittadini e facendo i percorsi. Io ho fatto il consigliere di quartiere, il consigliere comunale e ora il consigliere regionale. Questo è quello che dovrebbe fare la politica, non chiedere che i cittadini paghino le tasse per poi formare i politici. È inaccettabile. Può essere un'iniziativa interessante, ma attualmente è fuori contesto, stante l'emergenza che stiamo vivendo. E non parlo solo per i 300.000 euro che dovrebbero essere devoluti per il finanziamento, ma parlo anche di come si vorrebbe impostare questa scuola di politica. La scuola politica la fa ciascun partito, noi come movimento, nelle formule che avvicinano il cittadino alle istituzioni, a un percorso di politica intesa in senso puro, genuino, avvicinarsi all'interesse di tutti, della collettività. Mi sembra un'iniziativa della regione toscana che non abbia un fondamento particolarmente forte. Sembra soltanto una delle tante iniziative della regione toscana, ma non ne trovo in questo momento né l'utilità e né soprattutto le fondamenta, le basi anche argomentative per crearla. Unanimità alla mozione che impegna la regione a tutelare i lavoratori Amazon. Sono davvero contento che il Consiglio regionale abbia votato all'unanimità una mozione che chieda di redarre una legge a favore della tutela e della salute dei lavoratori delle piattaforme digitali. Da quando sono stato eletto Presidente del Consiglio regionale ho sempre detto di voler dar voce a chi ha meno voce. Essere al fianco di tanti lavoratori che oggi hanno meno diritti è qualcosa di importante e sono contento che questo lavoro sia stato apprezzato da tutte le forze politiche del Consiglio regionale. Ci sono temi su cui non ci deve essere differenza di posizioni partitiche, ma ci deve essere un solo obiettivo, dare risposte a quei lavoratori che oggi hanno meno diritti. Mi fa piacere e voglio fare veramente complimenti ai lavoratori di Amazon perché prendere una iniziativa sindacale come quella che hanno preso contro forse il più grande colosso mondiale non credo sia facile. Serviva perché bisognava portare l'attenzione sulle condizioni di lavoro di queste persone. Io mi auguro che il Consiglio regionale abbia fatto, non so se riusciremo a fare qualcosa di concreto per loro, me lo auguro, ma sarà difficile visto le dimensioni della controparte. Però mi auguro che il Consiglio regionale della Toscana sia l'apripista per avere il coraggio di far luce su una situazione di lavoro che non è possibile accettare nel 2021. Ma è un'attenzione che vuole dare il Consiglio regionale, indipendentemente dalla ripartizione di carattere politico, per dimostrare che c'è un'attenzione forte al mondo del lavoro, a un lavoro che in questo momento sta faticando rispetto alle tutele di un settore che comunque sta producendo grandi utili, grandi rentitività e che sta, tra virgolette, guadagnando dalla crisi degli altri. E quindi come tale questa redditività deve essere condivisa e ripartita fra chi mediante il proprio lavoro produce quel reddito. La solidarietà e la vicinanza è giusto che il Consiglio regionale la esprima sempre. Noi siamo soliti portare in aula mozioni sulle tematiche del lavoro e condividerle indipendentemente da chi le presenta. Noi ci aspettiamo che anche qui la Regione si attivi il prima possibile per dare risposte a tutti quei lavoratori che lavorano anche in tempo di pandemia, che subiscono turni che sono pesantissimi e che hanno giustamente delle richieste da fare alla politica che non può tacere la risposta ma che si deve impegnare per portare le loro soluzioni. Questa multinazionale ha 175 centri di distribuzione nel mondo, 40 in Europa, alcuni anche in Italia, fra l'altro due qui in Toscana, a Pisa e qui nella Piana Fiorentina. e c'è stato un forte aumento tra l'altro degli volumi di affari di queste aziende che sono legate all'e-commerce, causa anche il Covid che ha costretto le persone a stare in casa. C'è stato un aumento di oltre il 50% dei volumi di affari. Ecco, rispetto a questo aumento di volumi che presuppone anche un aumento dei guadagni, c'è invece una situazione che viene denunciata dai sindacati e dai lavoratori di compressione di quelli che sono i diritti, la qualità del lavoro che sono costretti invece a subire. In termini di turni stressanti, di necessità di consegne alle ore più disparate, assenza di clausole sociali nei loro contratti. Molti di questi contratti sono precari e quindi c'è stata un'altissima adesione al primo sciopero che è stato indetto dai lavoratori di questa grande azienda, perché ha partecipato oltre il 70%. Ecco, noi pensiamo che vada riaperto il tavolo che invece l'azienda ha interrotto di confronto di dialogo con i lavoratori, perché siano accolte le richieste che loro fanno e quindi occorre, essendo questa un'azienda che ha presenza su tutto il territorio nazionale, che il governo si faccia carico di questo, riapra questo tavolo e siano possibilmente, questo noi auspichiamo, accolte le richieste che vengono fatte. In più ci impegniamo anche a produrre un atto legislativo che vada incontro alla tutela dei diritti del lavoro dell'economia cosiddetta digitale. Questo pensiamo sia non solo dovuto ma anche fortemente coerente e in linea con la tradizione di civiltà e con l'impegno per la qualità e la sicurezza del lavoro che la Toscana ha sempre messo nei propri atti. Grazie a tutti.